Sono Lorena Diano e faccio l'impiegata. Seguo Patrizia online nel suo gruppo Divine Connection da un anno e mezzo e quindi sono aggiornata sugli eventi e su quello che viene organizzato. Io ho deciso di partecipare all'evento Vita Straordinaria perché mi sembrava un'ottima opportunità e da tempo che esprimo l'intenzione di voler partecipare ai live di Patrizia. Non ho mai avuto la possibilità di farlo in presenza. Adesso c'era questa possibilità di farlo online e ne ho voluto approfittare. Mi è piaciuto l'impostazione delle tre giornate, il fatto che siano stati invitati come ospiti delle persone che hanno portato veramente la loro esperienza e sono veramente esempi di vita straordinaria. L'interazione con il gruppo e la testimonianza di altre persone come noi che hanno delle difficoltà che alcuni hanno superato, altri le stanno superando e quindi è questo molto importante perché ti toglie da una condizione di isolamento e ti fa sentire un po' più parte di una comunità. mi è piaciuto, vabbè, Patrizia è straordinaria sempre, molto bella questa cosa di fare sia teoria e poi di avere una parte esperienziale con tutto il lavoro della meditazione perché sicuramente la teoria va poi elaborata e introiettata a livello profondo e mi è piaciuto tutto. Mi hanno colpito delle frasi, per esempio una che mi è proprio rimasta impressa è quella che dice fai qualcosa per cui la gente ti debba dire grazie e non bravo. Ecco, questa è una frase che mi ha colpito molto. Oppure vai laddove senti la paura, è lì che devi andare. Ci sono delle frasi, queste frasi qui, che hanno colpito piuttosto che anche libri che sono stati proposti da leggere rispetto agli ospiti che sono intervenuti tante cose però ecco, queste sono proprio delle frasi che come dei flash, quando arrivano e ti rimangono impressi. ecco, allora mi porto dentro dopo questi tre giorni la consapevolezza dell'importanza di fare questi lavori a livello personale, a livello profondo di come sia importante stare bene per poi a cascata riuscire a far bene tutto ciò che fa parte della nostra vita quotidiana. Mi rendo conto che a volte gli eventi di vita, piuttosto che le situazioni, fanno sempre un po' slittare queste cose ma quando ci si ferma e si prende il tempo per potersi dedicare a queste cose è sempre un tempo speso bene, un tempo prezioso, un tempo di qualità e bisogna ricordarselo, ecco, non bisogna mai farsi prendere dalle vicissitudini della vita per tralasciare questo aspetto. Io consiglierei a tutti questo percorso che è stato fatto online di vita straordinaria perché ti apre la mente, perché ti dà la possibilità di acquisire degli strumenti che servono di attingere a delle risorse che aiutano e quindi assolutamente sì. Se io dovessi sintetizzare con una parola questi tre giorni sicuramente profondità e amor proprio, ecco, perché mi viene da dire che quello che viene fatto in questi tre giorni è un andare a nutrire quella parte interiore che ognuno di noi ha che ha bisogno di essere nutrita. Non ce l'ho fatta a dirla in una parola però, insomma, nutrimento, ecco, forse. Io spero prima o poi di avere la fortuna di incontrare dal vivo Patrizia perché sarebbe sicuramente un regalo. La saluto, la ringrazio per tutto quello che fa, veramente. Imparare per poi trasmettere e poter aiutare più persone possibili per me è veramente il massimo. Quindi un grazie di cuore e spero, spero tanto di poter incontrare un giorno Patrizia dal vivo. Grazie a tutti.